ok vai stamattina vi ho staccato un video buon camminzione e che video hai? a sorpresa Signore e Signori, il piu ma l'Italia del mondo ma bene D'Italia del voto? Aggrav số 2 Ag fabolski D-SA 3 Cina, o lei, nell'altra, già la sicurezza, assolutamente, allora, scusate un attimo, allora, adesso, adesso il mio amico, il signor Antonio, ci insegnerà un sistema per conquistare le donne, una poesia che lui dice sempre, no, 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 ma io non c'è poesia del canzone, perché tu sei proprio brutto, lo so Antonio, però io voglio imparare, capito? Non puoi, no, 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 che stai a imparare, mi ha vincitato 30 anni, eh, Antonio, io ce n'ho poche ancora da dare, per favore, ho scriptamalle, anche io, il Crypto, il riso s'abbonda in corso il Thorim, Antonio, ma quelle dure per noi che non le abbiamo studiato, il riso abbonda sui stondi, il riso, ma fai sui delvino, però, c'è un po' di confusione Antonio, ma la prima vuol dire, che più parole fai volano e i fatti restano ma non è che tu sei fatti giusto? si ma ci sono fatti eh ragazzi e volete un messaggio se è brutto vai... allo solo è che il pari è anotima? no o su quella romanzo non mi trovo sarebbe l'Antonio che... questo è il più bello di tanto conquistatore delle donne è la mila comunale si ma non lo vado a dire 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 lui è il più bello di tutto il mondo si 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 calati buongiorno calati no 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 ho fatto ancora ma si fammi una domanda scusa perchè non vorrei da un po' di giubato si prego ma per andare con qualche donna che si ci lascia qualche donna gira, giappone, corea il resto è basta è basta il resto è nulla il resto è nulla per noi sono asiatiche sono asiatiche perchè non piacciono asiatiche sono tutta la stessa faccia a parte in gira sono un milano e trecenti no ma non ti piacciono a loro io a loro complimenti andò 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 con i video vibro ok con vibro col vibratore JON understand con il video con le stesse amici e ci andiamo una fretta i te la secondi andò e andò e chiudiamo la concentrazione concentrazio e come ti faccio ma sui sani Ah no, una, la mettete in mezzo. Dai, dai, dai. Mai buzecchiare ciò che dicono gli amici, poiché parla solo il cervello. Poiché? Parla solo il cervello. Avete capito? Ma che è che tu conosci pure una margherita? Dico, scontrava gente. E non rispondi. Dimmi che è la margherita. O la taglia è margherita. E' meglio che gli fate o vadoci o che scappate d'Italia. Vai, va, va, va. No, 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 no. Curate farba, capelli, look, modo di vestire, modo di parlare, modo di camminare. Ando, faccio il asfilato, un massimo. No, no, voglio andare via, ragazzi. Voglio andare via, ho molto da fare. Antonio sto in piacere come sempre. Grande Antonio. Mi raccomando, Ando, lasciaci qualcosa. Eh, io sono solo a me. Sono all'Istica. Ciao Antonio. Al finesse. Cosa? 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 Cosa?